La pandemia ha trasformato la nostra vita. Una fetta consistente di persone di questo paese è molto sfiduciata. Trovare una soluzione è diventato prioritario. Non solo nei grandi centri, anche nei piccoli centri. C'è la capacità di innovare, di fare ottimi prodotti, ottimi servizi. Il Next Generation EU offre l'opportunità di costruire finalmente un'Europa più giusta, pensata intorno ai bisogni delle generazioni future. È arrivata l'ora di ripartire insieme. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS